buongiorno a tutti da fine in cucina e non solo rubrica detersivi parliamone oggi vi parlo dei prodotti che utilizzo io per lavare i piatti bicchieri e pentole e quant'altro allora premetto che io ho la lavastoviglie e tendo a mettere tutto quello che è possibile dentro quindi la giusto poche cose a mano e poi finisco il piano cottura normalmente sono come tutti partiamo immediatamente dai detersivi per la lavastoviglie allora per quanto riguarda il detersivo vero e proprio utilizzo di solito sempre le tabs non di solito sempre queste sono quelle dell'eurospin quelle complete con potere attivo eccetera eccetera sono 30 tabs e le ho comprate perché mi sembra che erano in offerta o le avevo comunque in dispensa ma forse le avevo prese in offerta di solito compro quelle che costano meno perché secondo me dipende anche dal tipo di lavastoviglie la mia vedo che si comporta bene anche con detersivi sotto marca o del discount e anche di tipo low cost c'è tra le marche del discount per esempio quella quella che costa meno e quindi vabbè io essenzialmente cosa faccio tiro via il grosso con il tovagliolino di carta ma non sciacquo sotto l'acqua corrente e i piatti vengono pulitissimi quindi non vedo perché devo fare un ulteriore spreco di energie sempre per la lavastoviglie utilizzo ovviamente anche il brillantante che comunque insieme al sale poi da un'azione più che altro sui bicchieri di vetro più lucide insomma uso sempre sottomarca quindi questa è una sottomarca del tigros del supermercato qua vicino e di solito usi utilizzo sempre questi al limone il mio master il limone per la lavastoviglie per l'acqua che abbastanza calcarea utilizzo il sale comunque la lavastoviglie quasi tutte vi segnalano la mancanza di sale o di brillantante di conseguenza voi poi vi aggiustate poi cosa faccio sempre nella lavastoviglie quando utilizzo il limone non lo butto nell'umido ma lo metto nel cestino delle posate è un ottimo deodorante e sgrassante quindi ve lo consiglio io lo faccio sempre non è la lavastoviglie non ha mai avuto problemi lo utilizzo una volta ovviamente nel senso utilizzo il limone metà magari spremuto quello che è la parte che rimane la metto nel cestino delle posate e faccio il lavaggio e dopodiché lo prendo e lo butto vi assicuro che rimane un buon profumo di limone il miglior deodorante che ci possa essere non ho provato a comprare quei deodoranti fatti apposta che si appendono ma mi sanno di chimico non mi piace di tanto in tanto che vabbè qui non ce l'ho ci butto dentro un bicchiere di aceto prima del lavaggio non si sa mai l'aceto male non fa per quanto riguarda invece i piatti lavati a mano non il lavastoviglie il mio detersivo preferito per i piatti in assoluto avendone provati diversi zelto di xan marca del supermercato dell'euro spin piuttosto che dell'idol no il mio preferito in assoluto è il nelson proprio questo lo adoro questo è perfetto secondo me vabbè loro ovviamente promuovono rimuove incrostazioni dura a lungo combatti cattivi odori azione sgrassante rimuove lo sporco bruciato profumazione limone quando invece devo anche un po lucidare le pentole che magari rimane l'alone del calcare piuttosto che del si è bruciato qualcosina così utilizzo le pagliette saponate al limone sono queste quelle all'antica diciamo insieme a queste nella pentola un po opacizzata utilizzo l'aceto quindi combinazione di questa più aceto uguale pentola splendente acciaio ovviamente come detersivi ecco finisce qua la questione dei piatti e delle stoviglie vi parlo anche in questo video degli attrezzi che utilizzo degli attrezzi delle spugne che utilizzo allora innanzitutto per lavare i piatti di solito utilizzo questa questa è nuova vabbè comunque per farvi l'esempio questa qui è la classica spugna con cui mi trovo bene ho comprato alle volte quelle che sono più spesse gialle però non mi piacciono più di tanto ultimamente ho trovato queste queste nuova che questo e mi sto trovando bene perché comunque sono spugne che non non graccia nel senso grattano ma non graffiano tirano via lo sporco ma non graffiano sono morbide anche e mi sto trovando bene anche con questo per finire magari di passare il lavello oppure per una pulizia veloce dei bicchieri o anche del piano cottura il classico lavasciuga mi sto trovando bene con questi ho utilizzato anche i panni ballerina e panni gialli panni di tutti i tipi però alla fine sono tornata a questa la dimensione e la composizione che più mi soddisfa di solito non uso nulla per proteggere le mani infatti ho delle mani schifose dovrei utilizzare i guanti che ho li utilizzo solo quando faccio dei lavo tanto a mano perché magari siamo tanti la lavastoviglia sta già andando col suo carico c'ho tante altre cose da fare utilizzo i guanti o per altri fini e in ultimo ho comprato anni e anni fa questa che è una scovolino spazzolino magari quando ci sono dei contenitori lunghi e stretti oppure le bottiglie non so tipo il bollitore dell'acqua che non riesco a filare bene la mano mi faccio male quindi utilizzo questo mi do un aiutino insomma e niente diciamo che questo breve video è terminato e penso che sia terminata anche la serie detersivi parliamone farò un ulteriore video dove vi parlo degli attrezzi che utilizzo per le pulizie sempre in questo contesto quindi detersivi in abbinata in combo con strumenti per utilizzarli vi saluto per adesso vi auguro una buona giornata da fine cucina è tutto al prossimo video ciao